la scrivania e raccolse tutte le cose rubate. Non c'è nessun perché, risposi, lasciando che la rabbia filtrasse dalla mia voce. Te lo ripeto, non sono stata io. So bene che non bisogna prendere niente da ripiano alto e io non rubo e non dico bugie. Fissai Rebecca sfidandola ad abbassare lo sguardo. Lo sai che questo tirocinio è tutto quello che desideravo. Sai che ho fatto tutto quello che mi hai chiesto da quando sono arrivata qui. Perché dovrei autosabotarmi? Soprattutto quando mi hai appena offerto una grande occasione e l'opportunità di scrivere. Semplice, non lo farei mai. Lei distorse lo sguardo, che devo ammettere fu una piccola soddisfazione, e poi tornò a guardarmi. Calma e composta, come se non fossimo ancora andati in fondo alla questione. Però in qualche modo quella roba è finita nel tuo zaino, ovviamente, e oggi non c'è nessun altro qui. Eppure non era vero, l'ufficio era vuoto, ma non del tutto. C'è un'altra persona. Cleo era ancora al bancone della reception. Faceva finta di limarsi pigramente le unghie, ma dal modo in cui tendeva le spalle all'indietro capivo che stava ascoltando la nostra conversazione molto attentamente. Non c'è niente come guardare una iena fatta a pezzi da un leone dal tuo rifugio sicuro e confortevole. Spero che tu non stia accusando Cleo di averti incastrata in qualche modo. Alzai le spalle. Qualcuno l'ha fatto, non so se sia stata lei. Tutto quello che so è che lei è qui e sinceramente non capisco perché sottolinearlo sia peggio di quello che è stato fatto a me. Ci fu una lunga pausa durante cui mi chiesi se il mio tirocino da Hello Jiggles si fosse appena concluso in modo molto poco cerimonioso e se era così mi domandai come avrei fatto a dirlo ai miei amici e alla mia famiglia, che tifavano tutti per me da Riverdale. Ritentai stavolta più delicatamente. Rebecca, non sto accusando nessuno, ma pare che qualcuno stia cercando di incastrarmi, come hai detto. Non so chi potrebbe farlo perché, ascolta, so che non mi conosci tanto bene e che non sono qui da molto, ma non ho preso quella roba. Non lo farei mai. Dammi solo la possibilità di dimostrarlo e di capire cosa sta succedendo. Rebecca fissò la confezione di ciglia finte come contenesse i segreti dell'universo. Ci fu un'altra pausa interminabile, interrotta dalle piccole vibrazioni che dovevano venire dal cellulare di Cleo. Oddio, stava raccontando la storia a qualcuno via messaggio. Non avevo idea del motivo per cui potesse volermi incastrare, ma l'idea che si stesse godendo il momento rese tutto ancora più duro. Rebecca sospirò. Ho letto il tuo pezzo, Betty. Era buono. È ovvio che hai un talento naturale per la scrittura. Non stava dicendo che mi perdonava o che tutta la faccenda era archiviata, ma era un complimento. Almeno stavamo andando nella direzione giusta. Grazie. E qui a Hello Jiggles crediamo nelle seconde opportunità. Era vero. Rebecca, in particolare, adorava le storie di redenzione delle celebrità. Sguazzava nei racconti di riabilitazione con una patina di pentimento. Non so cosa dicesse questo sulla sua storia personale. Perché non facciamo così? Tutta questa roba torna nell'armadio, su di piano più alto, per non essere più toccata. Strinsi di nuovo i pugni. Avrei voluto insistere che non ero stata io a prenderla la prima volta. Ma mi costrinse a respirare. Subito. E se non sparisce più niente, serrai ancora le mani e feci un altro respiro profondo. Archivieremo questa storia come un errore in buona fede. Ma non è stato un mio errore, volevo gridare. Però sapevo che sarebbe stata una tattica sbagliata. Ora occupati del pezzo sulla loggia, concluse Rebecca. Credo che siamo pronte per l'inizio delle ferie. Lo faccio subito, risposi. E dicevo sul serio. Avrei scritto il pezzo su Veronica Lodge. Misteriosa. Enigmatica. Erede dell'aristocrazia urbana. Rebecca l'avrebbe adorato. Ma non era tutto. Prima di lasciare l'ufficio avrei fatto un'altra cosa. Avrei esaminato tutto con gli occhi di Nancy Drew. Caro diario. Avrei scoperto chi complottava contro di me. E poi gliel'avrei fatta pagare. Cara. Blossom Maple. Maple Farms. Maple syrup. Dalla scrivania di Clifford. C. Blossom. Ai nostri azionisti. La Blossom Maple Farms ha ricevuto notizia dalle recenti preoccupazioni a proposito dei nostri sforzi perché l'azienda prenda le distanze dal lungo rapporto con la loggia industries. Uno dei nostri primi e più controversi soci. Vi garantiamo che il nostro team ha condotto ricerche approfondite sul modo migliore di gestire questo processo che sarà affrontato con la nostra tipica raffinatezza e determinazione. Come ben sapete abbiamo lavorato solo da lungo per esplorare le ramificazioni legali di questa decisione che non prendiamo certo alla leggera. Noi della Blossom siamo certi che una volta ultimata l'ascissione l'azienda vivrà un periodo di crescita senza precedenti. Contattate pure i nostri uffici se avete ulteriori dubbi o domande. Cordiali saluti Blossom. Sciroppo d'acero Blossom. Ci aggiunga un po' di sciroppo signora? Blossom. La una volta. No. 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 Grazie a tutti.